SIGLA SIGLA Hai sentito? Sta allerta, è vicino a me. Ehi, quando raggiungeremo la luce, come faremo a infonderla al Bifrost? La strega ha detto di entrare. Quando? Quando è scomparsa da questo regno. Oh, e non l'ho sentita? Pensavi più alla sua incolumità che al nostro scopo. Ed è... Mande! Tranquillo! L'ho bloccato! Usa il pugnale! C'è mancato poco. Non allontanarti da me. Non devi dirlo. Oh, è appiccicoso. KINANUNA! Un altro! Sta indietro! La luce! Shhh! Sì, siamo vicini alla meta. Ma dobbiamo essere cauti. Hai capito? Sì. Lì, quando cadrà sei pronto. Dobbiamo agire in fretta. Ok. Salta ora! Ok! Attento! Usate! Arrivano! Stammi dietro e copri il fianco. D'accordo. Gianga! È il futuro! Na frontatori! Arrivano! Oh! Sì. E… Ah, innan? Ha, innan? Enono! 浜ano! Letta! Lieva. Psicagame. Oh! Devirations! Oh! Grazie a tutti. Continua a tirare! Io sgombro la strada! Riduci l'intervallo tra i tiri! Ci sono molti bersagli! Non li mancherai! Una strada stretta andulla la superiorità numerica! Concentrati! Non li mancherai! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Ragazzo! Ti sei fatto male? Sto bene. Wow, è bellissimo. La luce fa riapparire il tempio. È la fonte di tutto quanto. Senti. Sta... sta cantando. Sento... La sua voce! Te l'avevo detto che era lei. Pensi che sia lì dentro? Oh, quanto fa male. Sembrava che la mano andasse a fuoco. Ma io voglio... Resta... qui. Usala solo se è necessario. Mi hai dato la tua ascia. Ti ho affidato la mia ascia. Non te l'ho regalata. Forti! Ah... 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 Che mi succede? Faye... Devi tornare indietro. Mi hai lasciato qui solo. Atreus. Solo con lui. Lui se ne va sempre. Non è mai qui. Non mi vuole... e non mi vorrà mai. Io non lo conosco. E lui non mi conosce. Non sembra riflessato. Io sono forte. Sono intelligente. Non sono come pensa lui. Io lo so. Lui non mi parla. Lui non mi insegna niente. Doveva morire lui. Mi senti? Lui, non te! Ma... Non dico sul serio. Sai che gli voglio bene. Vorrei solo che fosse migliore. So che potrei. Se ci proverà, io ci provo. Ma se non lo farà... Ti prego, torna. Lo so che ci sei. No? 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 Torna da noi! No! No! Che cosa hai fatto? Perché l'hai fatto? Ti ho salvato! Tu eri intrappolato! Ti ho aspettato tanto, ma tu non uscivi più! Allora ti ho tirato fuori! Ragazzo! Sono stato via a pochi... Momenti... No! Sei stato via per tanto... Tanto tempo! Io non sapevo cosa fare! Mi hai lasciato solo! Di nuovo! Di me non ti importa! Io... Ma è impossibile! Andiamo prima che tornino! Spero tu abbia ciò che volevi! Sì! Guarda! Ecco l'uscita! Ma non c'è luce per creare un ponte! Siamo in trappola! E la corda della strega è inutile! Ragazzo! L'arco! Tienilo! Al segnale! Scocca la freccia sulla roccia! Funziona! Ora possiamo tornare indietro! Vieni! Ciao! Ciao! Grazie a tutti. La scala è bloccata. C'è un cristallo di luce laggiù. L'è a terra. Forse ci aiuterà a uscire da questo stupido posto. C'è un cristallo. 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 Il cristallo. C'è un 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 cristallo. Grazie a tutti. 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 Dove lo porti quello? Ragazzo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.